La base è 50, si chiama Bigotto 2016. Qualcuno è interessato? 50 euro? 50 euro due? A giudico? A 50 euro il signor? Marzio. Nella nostra attività che abbiamo fatto finora, oltre che gare di salame, che manifestazioni legate all'enovastronomia, abbiamo fatto anche delle manifestazioni in collaborazione con Avish, con cui siamo riusciti per tre anni a fare di riso in riso, manifestazioni che ha portato oltre 30 mila euro in cassa, nelle cassa dell'Avish. Abbiamo fatto una manifestazione in cui si sono venduti dei pacchi di prodotti matovani per centro di aiuto alla vita e adesso abbiamo deciso di collaborare con Unicef e di prendere la palla al balzo della manifestazione delle Pigotte. Pigotte che sono un simbolo ormai di Unicef e abbiamo deciso di darli in mano degli artisti che le realizzassero secondo il loro piacere, secondo il loro gusto, per poi vendere in un'asta e il ricavato dell'asta da naturalmente a Unicef. Oltre alla presenza di questi artisti che hanno realizzato le Pigotte, ci sono anche dei fotografi che hanno realizzato delle ulteriori opere, che sono le immagini delle Pigotte stesse che sono pubblicate sul catalogo, quindi c'è un doppio intervento. Siamo lieti e felici di partecipare a questo evento, speriamo che sia abbondante di partecipazione e di soldi incassati perché ovviamente l'Unicef dopo li userà per aiutare i bambini dei paesi in via di sviluppo. Daniela Sanguanini è stata il Fred Union fra noi, l'Unicef e la confraternita del Salame Mantovano e quindi speriamo che questa sinergia possa portare un ottimo risultato. Per quanto riguarda l'asta, l'asta sarà un'asta pubblica e sarà sicuramente emozionante come tutte le aste, sia per chi batte che per chi partecipa e spera di vincere la Pigotte che preferisce. Oggi siamo arrivati finalmente all'asta per cercare proprio di realizzare quello che è il compito dell'Unicef, cioè la raccolta fondi per la tutela dei diritti dei minori, per realizzare i progetti dei diritti dei minori. In questo caso è un kit salvavita che permette di essere vicini ai bambini da 0 a 5 anni. Abbiamo notato in sala 50, 50 euro di euro, 50 euro di euro, a giudico il 50 euro è massimo.